La salvezza di Cristo, questo dono che Dio ci ha dato, non è una cosa di un momento e niente più, è un cammino. Nella cappella della Casa Santa Marta, durante la Messa, Papa Francesco si è soffermato ancora una volta sulla presenza del Signore nella vita di ciascuno. Ogni individuo, infatti, può sperimentare sempre questa presenza reale ma rispettosa, amorevole e attenta. Il Padre Celeste, ha rimarcato il Pontefice, cammina con noi e non si spaventa delle nostre cattiverie, non si arrende dinanzi alle nostre fragilità e ci ama anche quando gli chiudiamo la porta in faccia. Ecco perché è importante fare memoria del proprio cammino. La memoria ci avvicina a Dio, la memoria di quell'opera che Dio ha fatto in noi, in questa recreazione, in questa regenerazione che ci porta oltre dell'antico splendore che aveva Adamo nella prima creazione. Io vi consiglio questo semplicemente. Fate memoria. O come è stata la mia vita, o come è stata la mia giornata oggi, o come è stato quest'ultimo anno, ma memoria. Come sono stati i miei rapporti col Signore, memoria delle cose belle e grandi che il Signore ha fatto nella vita di ciascuno di noi.